In questo video rispondo a tutto quello che mi avete chiesto su OnlyFans, come si diventa creator, quanto si guadagna e anche quali rischi si corrono sulla piattaforma. Partiamo dai numeri, su OnlyFans ci sono 2 milioni di creator che producono contenuti erotici o sessuali e 190 milioni di iscritti che nell'ultimo anno hanno speso 5 miliardi di dollari per accedere a quei contenuti. La maggioranza dei creator sono donne tra i 18 e i 30 anni, mentre i follower sono generalmente uomini tra i 35 e i 45 anni. Questi pochi numeri sono sufficienti per dire che su OnlyFans c'è una fiorente creator economy, ma come tutte le volte in cui si parla di contenuti social, occhio a pensare che sia semplice. Certo, questa piattaforma favorisce la monetizzazione dei contenuti molto più di tante altre, ma bisogna comunque impegnare tempo ed essere costanti. In più, se parliamo di OnlyFans rispetto alle altre piattaforme, occorre tenere bene a mente anche un tema di reputazione. Detto questo, su OnlyFans si guadagna come? I creator di OnlyFans guadagnano principalmente dagli abbonamenti al proprio canale, che vanno solitamente dai 5 ai 50 euro al mese. Inoltre, possono chiedere ai propri abbonati di pagare per avere dei contenuti extra, per inviare dei messaggi privati o per fare delle richieste specifiche come foto e video personalizzati. La piattaforma trattiene il 20% di tutti i guadagni e corrisponde il restante 80% al creator. Tenete bene a mente che solo 300 creator guadagnano oltre un milione di dollari all'anno, mentre la gran parte si ferma su una media di 200 dollari al mese. Ipotizzando di volessi mantenere con OnlyFans, facciamo un esercizio. Vogliamo raggiungere 2500 euro lordi al mese, da cui scalare il 20% di commissione, i costi vivi e le tasse. Ci vorrebbero quindi almeno 500 abbonati disposti a pagare 5 euro al mese per i contenuti. Le regole per riuscirci sono praticamente le stesse dei social media. Prima di tutto l'identità del personaggio, quindi chi sei, in base a cosa ti distingui e perché dovrebbero seguire proprio te, i contenuti hot da produrre con costanza e assiduità e poi il marketing, ovvero come e dove farsi conoscere per attirare nuovi abbonati. I primi due punti richiedono un impegno praticamente quotidiano per la gestione dei contenuti, delle chat e di tutte le richieste speciali attraverso cui andare a fidelizzare gli abbonati e modificare il seguito già esistente. Il terzo punto invece è necessario per reperire costantemente nuovi utenti che si abbonano al canale. Quasi tutti i creator lo fanno al di fuori della piattaforma di Holyfans, solitamente su Instagram o su TikTok, con contenuti soft porn per farsi scoprire, aumentare i propri follower e poi convertirli gradualmente in abbonati. Se questo tasso di conversione si aggira mediamente intorno all'1%, per arrivare a 500 abbonati, si dovrebbero quindi raggiungere prima i 50.000 follower su un'altra piattaforma, offrendogli quindi in parallelo un secondo filone di contenuti sui social che non sono espliciti ma in questo caso però sono pubblici. E dunque, a fronte di un guadagno che è relativamente più facile e anche più elevato di quello di chi aspira a diventare un influencer sui social, è fondamentale mettere in conto anche tutti i rischi sulla reputazione, nonché le ricadute sull'immagine e sulle relazioni personali che derivano dal fatto di avere foto e video erotici che potrebbero restare in rete per sempre. Ne vale la pena? A ciascuno la propria valutazione. Secondo me no, perché le ricadute sulla reputazione nel lungo periodo sono decisamente maggiori del guadagno economico che se ne trae, a meno che non si voglia chiaramente intraprendere una vera e propria carriera nella sex industry. Voi che cosa ne pensate? Che sia da creator per soldi o per divertimento o che sia da follower e abbonati, vi è mai capitato di usare OnlyFans o di aver pensato di iscrivervi alla piattaforma? Lasciate pure un commento e rispondo alle altre domande.